Il primo è la signora Anna, il secondo Titano Mario, il grande salve del nostro presidente. Signore e signori, il terzo è un grande orgoglio. Signore e signori, il terzo è un classificato, Pino! Grazie Pino! Ok ragazzi, grazie. Ci sentito. Il secondo è il primo nostro di Pino. Grazie ragazzi, proseguiamo con la relazione delle donne.